Siamo con Stefano Manzelli, consulente per gli enti locali e le forze di polizia, coordinatore del gruppo di ricerca Sicurezza Urbana Integrata, che è stato relatore al webinar ASSIV sulle possibili sinergie tra comuni ed istituti di vigilanza sul fronte della sicurezza urbana. Lei, dottor Manzelli, ha esordito dicendo che la privacy fa da cappello alla sicurezza urbana integrata. In che senso? Certamente parlare di privacy è comunque sempre poco corretto, ma per semplificazione il corretto trattamento dei dati personali è una condizione necessaria per intraprendere qualsiasi percorso in materia di sviluppo digitale. E questo, anche se ormai ha tre anni di vita, il GDPR si pone come tassello fondamentale per dare regolarità e robustezza a qualsiasi tracciato e a qualsiasi iniziativa. Se non abbiamo capito i principi fondamentali della riforma del GDPR non riusciamo neanche a cogliere le opportunità. Le opportunità sono tante perché questo fantastico strumento in realtà agevola e vuole sostenere le innovazioni, i progetti, il corretto trattamento dei dati e pone al centro la fiducia della persona che quello che si sta attivando sarà un processo sicuramente ben ordinato e facilitato. Perché al centro di tutto questo ci deve essere la responsabilità del titolare del trattamento e quindi di chi sta mettendo in opera, in campo, una progettazione. Quali quindi le concrete possibilità di collaborazione tra pubblico e privato perseguibili in questo campo specifico? Proprio nella logica di rendere robusti i tracciati fin dall'origine il cappello privacy si deve adattare anche a quello che ha introdotto il pacchetto sicurezza Minniti sul fronte di questo crescente sviluppo delle città digitali. Quindi parlare di sicurezza integrata è facile, però bisogna poi andare a declinarla e credo di avere rappresentato e vissuto insieme anche ai partecipanti a questo webinar quella che può essere un'opportunità di dare un contributo fattivo al potenziamento della sicurezza delle città utilizzando in maniera rigorosamente attenta il contributo anche degli istituti di vigilanza che secondo l'articolo 7 del decreto Minniti possono innestarsi all'interno di un patto per la sicurezza cioè un accordo sindaco-prefetto per dare una mano forte nella visione delle immagini nella generazione di quelli che sono gli allarmi che i sistemi, i dispositivi che sono posizionati sul territorio generano quindi avere la possibilità di avere un occhio in più a quello che succede nottetempo in particolare quando le forze di polizia locale non sono a disposizione per permettere un maggiore efficientamento del controllo del territorio questo credo sia un tracciato che il pacchetto sicurezza Minniti ha valorizzato e che potrà essere intrapreso da quelle amministrazioni che iniziano ad affrontare il tema della collaborazione pubblico-privato mettendo al centro la privacy e l'articolo 7 del pacchetto sicurezza Minniti